ahahahah, questo è il barile di rum ok arrendogio allora qui secondo me ci conviene intanto per il momento fare una rotazione allarga in bargio pirati siamo loro rotazione, una rota uno spara uno vedetta lo sbozza uno mi sa che devi caricare invece l'altro mi piace uno carica, uno ruota, uno spara uno vedetta vedetta, io carico anzi tu sei capitano, tu vedetta io vedetta allora vai al timone capitano dai a me mi piace impiagnare mi ricorda un po' capitano Anu affondiamo affondiamo ahahah pronti? però secondo me ci conviene... ARG ARG si spara aspetta prima di sparare ma adesso spara si no la coltetta per la mia testa che succede che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? non lo spara no? no 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 lo dammi a pirño dopo io vengo i metsek dell'impiagnare ehm la carica allora io giro io giro se giro si giro come l'anno sparo non c'è un gaspio fa parte a sparare mori carico non è solo solo il cuore amore che riparo questo ma una carabella mi muovo no per il nostro amore quindi vai a vela vai a vela 1 1 1 1 1 1 1 leggete tababbiati, impostare la nave su zero maremma allora io sparo si spara dove è andato? kaboom e ci si è sparato nooo a questo non gli vuoi sparare aspetta aspetta io sparo scopri vente scopri qualcuno fotocrafica mi muovo io sparo mi muovo di calavera ma insomma quindi io ne faccio vela per arrivare a brigare alla calavera esatto io pure sto a vela e veliamo? io riparo se so vele veleranno però a vela arriviamo a due eccoci no a terza tre la vela due è il numero di persone già li per arrivare alla calavera dobbiamo stare a tre di vela ma ci devi arrivare se ti metti a tre di vela se no a facciamo così arriviamo a due sparo e non c'hai la proiettile in questo momento? non c'hai il proiettile ci metterai un proiettile un proiettile arriverà io riparo metto vela ruota ruota capitano 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 vetta 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 chi era? capitano in blanche capitano in blanche io devo sparare però non c'è niente aspetta calma vai spara capo no ci piaccerebbe eh vabbè capo no io ruoto carica e io ruoto è capitano a tracca c'è giallo giallo hai due perché tre giallo scogli vedi qua vedi qua ma ma vuole vedere spara dobbiamo ricarico io farlo però non posso metterci tutti e due la parità la cosa non non sì ammulizione sicuro io ho io posso farlo no non vedi qua la mi trovo questi lo fa non pescano bis io pesco pesca il giro 2 2 e dove metto li ho già fatto 2 scatto 2 ragazzi raga mettiti in ultimazione io ruoto tu ruoti io spado ruota 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 vera 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 io ho un bottoncino ottimo ho un botto da 2 zero con 0 ecco a me posso ruota di uno tu ruota di uno, io sparo io ripara ok, danno ripara buono, se almeno ci leviamo il danno, io ruoto due morto, abbiamo spregato ok, questa qui ci attacca aspetta, quando io gli spara anche di là si, bravo, mi spara non vedevo, scusate non vedevo, scusate girate tutte le carte dobbiamo scoprirle questo qui ci spara ah, ci rompe pure il suo chi è che pescava il cannone rotto prima? ritira il cannone rotto io faccio sempre il cannone rotto fatica a me no? vai con la seconda mano ok, allora muoviamo se no vado su vera no, vabbè ci vado io vado vedetta uno vado vedetta vai agitano vai, puoi pensare a quest'isola ah 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 che devi fare il timone ovviamente il timone allora ci vado io dopo sul timone timone boom vai, spara come se non ci fosse andare vai, due botte fuori ok, via io che faccio? timone, io timone, io timone io timone, io timone vai, spara vetti qua a sparare ok hai fatto fuori? e cecchino allora io ruoto mi fa sparare qui ok, io sparo a me che fate sparare a me perché fate sparare a me? ah no, io ruoto qua no, preferisco sparimo qua però prima mi scopri ah io dovevo sparo dove faccio il cannone io non sono fatto per sparare non farlo mi sparo mi sparo mi sparo io mi sparo mi sparo io mi sparo 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 carico carico muo incredibile ci stavo adesso vai a carico io ruoto io ruoto io ruoto scopri quelle carta scopri quelle carta scopri quelle carta ok 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 allora io adesso alzo la veda 3 poi arrabbiamo grande onda arrabbiamo girate la nave nel settore in senso orario vabbè c'è un brigantino scesi i cazzi gira, gira lo so io via via io vado la via no no qua qua quale cosa io io e ora vado da giro giro da gino da gino pilotino palancino pilotino questo è il problema ci sia andato ma che cazzo stai a dire l'italiano è una lingua maledetta spostiamoci in là spavamo la spaccatino aspetta prima ruota e spariamo spariamo infatti ci abbiamo spostato in là e poi dopo prima io sono da caricare di qua ruota 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 aspetta vediamo questo no ok vabbè ma il cazzo ma il cazzo va io 2 2 e allora io sparo io arzo la vela perchè ne dice una lingua carica però io sto caricando muovere ma siamo la vela parliamo io scopro questa scopri quella di dietro questa no questa è quale vai vai via ok allora io vado la velocità vedi qua a sparare vado la velocità non ti fidare di me non ti fidare di me ma non c'è ne sono due sparo carica qua armi carico e sparo 2 2 riprovaci 1 dai cavolo vabbè vengo qui vengo qui si si dammi dal vai hai tolto questo sparato si grafico tu senti io posso scegliere quale danneggiare si io ho fatto io ricarico perchè non ci abbiamo i cosi tu fai non lo so la mia vestita è velocissima doppio babo boom io parca io ruoto io vedetta sai che fa il limone scegli tre ok no io sparo no no ora ora sparo retano pesca un 2 porco 2 grande si mamma trenta 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 tu io mi muovo adesso ruota 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 no non puoi ruotare la vela cazzo no non puoi ruotare la vela cazzo non puoi ruotare la vela cazzo scopro scoglio scoglio mande io boh carico io sparo io sparo dado quanto lo sparo dado luca e la nada eh ci attiro proprio qua uno via 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 mandottelo che faccio il giro lo giro già lui allora abbassa la vela basta la vela io comincio a girare ci si si vedete via oh qualunque Ford vedete uno e due no 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 vedete 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 ricarico da me tu un bottone dai che mi ha capato il rosse e blu se il blu facessero un'azione riloci ah ah io ruoto si qua qua AAH che più si dove sta il buco allora io vabbè non mi sento a basso aspettiamo che io scopro no, voglio aspettare che scenda la clessitra bravissimo, non puoi mettere la clessitra ok, scopriamo ce lo andiamo? eh, non ci vogliamo mettere clessitra in questione aspetta, aspetta io ruoto abbassi la vela, non ci vogliamo mettere clessitra in questione però poi ci puoi ripartire no, perché quelle vanno le meschiate non bisogna dire però non subito gira, gira no, non subiterà nessuno, soprattutto quando andiamo a gestare 5 5, metà strada, dovete fare una bella scappinata dove sta il buco? ok pronti 10 monete capitano come Leonardo è un cioè giallo io dovete scoprire bravo caravello vai tira dove mi muovo? uno io la giro spazio farò lì e io ricarico tappa tappa qua, io mi sposto in qua o in qua il blu il blu, il blu, la gara sulla letta ci stavamo? no, stavamo a mocco io mi ripeto qua a sparare vela, vela, vela ci sta già? è già pronta? perfetto, allora allora appena ho fatto vado qui è uguale il blu ma non c'è l'idea di cartuccio? le cartuccio adesso ricaricare il dado allora il dado il dado è fatto allora, io scopro questa io metto questa e vado qua e io pure vado là aspetta Luca, aspetta Luca non è finita la tua io ho qua io vado a sparare ok ripara Luca un colpo ok dove vai? no, 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 no mira, mira, mira non vediamolo eh ma cazzo dopo di me no, tu vai a sparare e lui vai a vedere io non vado a sparare si, vai a sparare spara di qua ah, un po' lui c'ha tempo da portare me in vedetta io vado in vedetta quindi si ok il scagettone il scagettone il scagettone il scagettone è uno si vediamo due buono via io devo girare io vado a carico scarica, scarica non giro quale gira? il secondo là o questo qui? io non giro prima di girare prima di girare prima di girare prima di girare per gli sparare giro quello io lo ricarico poi lo vado in là no, allora fanno girare lo stesso fanno questa fattila è un muore ho fatto questa no, a carico mi sposto sullo sparaio no, io giro questa giro questa giro questa mercantile boom io mi muovo si uno e di quanto però? fai io mi metto qua io la ricarico ok, quindi tu mi muovete uno ah ok no, invece no si, si, si è fatto bene io non lo sparo e poi ricarica un tetto su vena 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 perché ce ne abbiamo con le mercantile no, a carico ma ci ne abbiamo muove uno ah, speriamo un'anzione sto subito speriamo un'anzione ok? perché io adesso muovo la vela e c'è l'acqua ma io muo ruoto eh, a te ruote un cazzo mi spara mi spara 1 1 allora io ricarico ora ricarico ferma dai, come aspetta io lo scopo a fila e quindi posso andare a sparare io la prendo io la prendo allora io invece io sto bloccato faccio riparo no benedetta yes girate la nave se tori in senso orario ma è deciso grosso culo alza la vela 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 qualcuno tocca l'applicazione per favore io non posso fare niente arrempaggio sali qua vieni, vieni arrivo pure io eh vieni a andare non forte qua dobbiamo pescare due vestirini ecco qua due doppio buono vai, vieni qua, vieni qua il blu giro scogli via grande ruota adesso ruota no, basta la vela abbassa la vela ok e io vado a ruotare un minuto si vai c'è rimasto là ducati, ti vado a sparare cari, non vieni secondo me ah no, non voglio te ha vada bene potete abbassare la vela di 2 possiamo abbassare la vela di 2 se non mi vado bene quando scende 6 che hai fatto? devi pescarne 2 eh non pesco a 0 vai, vai, vai no, una sola vai 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 a sparare? 2 dipende male 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 a 3 ho 10 oh 2, 4, 6, 8, 10 però dobbiamo oh ragazzi rispizziamoci qua ruota 1 abbassa abbassa di 2 abbassa di 2 ok quindi io muo giro vedevo 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 vedevvo vedevo 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 ma Hahahaha Complimenti!! Principal Vita Cinque Cinque Vite!! Danni su base Dieci Solo bagnate dieci Dall' máximo 2,4,8,10 FUBROOD Oハハ Grazie a tutti.